ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi oggi andiamo a vedere le notizie più interessanti dal mondo cripto una giornata piuttosto rossa sul mercato dove poche monete della top 100 si salvano ma prima di iniziare voglio farvi brevemente vedere una promozione per voi amici coin call vi offre un bonus di benvenuto esclusivo fino a 60 usdt tra l'altro è cumulabile con altre promozioni e non è richiesto il kyc per questo exchange per poter ottenere questo bonus dovete iscrivervi con il nostro link che potete trovare qua sotto in descrizione ecco qua cosa bisogna fare per ottenere questi 60 usdt depositando almeno 100 usdt su coin ne riceverete 5 in omaggio con un volume superiore a 1000 usdt ne riceverete altri 5 e con un volume superiore a 10.000 usdt ne riceverete altri 50 in omaggio per un totale di 60 usdt promozione valida fino alle 12 del 31 agosto vi ripeto trovate tutto quanto in descrizione e ora possiamo partire con le news e iniziamo con asdex un'azienda di gestione di crypto asset che ha presentato una richiesta alla securities and exchange commission per lanciare un etf bitcoin spot questo etf seguirà un approccio unico per così dire differenziandosi dalle altre società che hanno fatto richiesta quest'anno come ad esempio blackrock o fidelity infatti invece di dipendere dall'accordo di condivisione della sorveglianza di coinbase asdex intende acquisire bitcoin spot da exchange fisici all'interno del mercato cme con questo approccio asdex intende scambiare i contratti futures per un'esposizione spot equivalente piuttosto che acquistare direttamente bitcoin in contanti dagli exchange gli esperti hanno reagito positivamente a questa strategia suggerendo che potrebbe aumentare le probabilità di approvazione da parte della sec alcuni specialisti come ad esempio james sey fart di bloomberg ritengono che questa strategia possa ridurre le preoccupazioni della sec riguardo alla manipolazione del mercato bitcoin e alla liquidità non ci sono ancora commenti ufficiali da parte della sec o da gary gensler riguardo alle richieste di etf spot bitcoin o all'eventuale approvazione prevista entro la fine dell'anno vedremo per quanto tempo ancora la sec rallenterà e bloccherà queste approvazioni speriamo veramente che nei prossimi mesi ci sia un totale cambio di direzione e ora passiamo a una notizia che riguarda ripple perché l'avvocato pro xrp john deaton sostiene che la sec abbia commesso un errore nelle accuse contro brad garlinghouse ceo di ripple nell'ambito della causa sec contro ripple labs deaton sottolinea che la testimonianza degli ex funzionari della sec bill hinman e jay clayton avrebbe in realtà classificato xrp come una non security fin dall'inizio e secondo lui questa informazione è stata ignorata dall'agenzia per un lungo periodo deaton concorda anche con l'idea che hinman avrebbe dovuto testimoniare ma riconosce che legalmente non è possibile convocare un ex presidente della sec per un processo in ogni caso deaton ritiene che la decisione della sec di incriminare garlinghouse sia un errore clamoroso l'avvocato sostiene anche che clayton sarebbe un testimone cruciale anche perché ha avuto un colloquio con il ceo di ripple dopo il discorso di hinman durante il quale garlinghouse aveva menzionato che ripple sta vivendo nel purgatorio tuttavia né clayton né hinman hanno dichiarato apertamente che xrp sia una security quindi l'avvocato deaton crede che ottenere una testimonianza chiara da clayton e hinman avrebbe sicuramente potuto evitare spese legali e risparmiare tempo potenzialmente favorendo l'adozione di xrp assolutamente d'accordo con questo sicuramente tutto ciò ha influito in maniera molto pesante negli ultimi tre anni su prezzo ed adozioni del token e nonostante il giudice analisa torres notizia di cui abbiamo parlato spesso ultimamente abbia stabilito che xrp non è una security la sec sta cercando di ribaltare questa decisione purtroppo ragazzi alla sec non piace che gli si dica che hanno torto e molto probabilmente continueranno ad insistere nella loro crociata contro ripple ed il suo token xrp almeno secondo me fino a quando al vertice della sec ci sarà gary gensler e ora passiamo alla meme coin pepe notizia di cui abbiamo parlato in questi giorni sul nostro tiktok e al quale vi invito a registrarvi se non l'avete già fatto ve lo consiglio ragazzi ci sono tanti contenuti esclusivi ed interessanti ma ora torniamo a pepe e la notizia è questa cioè che sviluppatori disonesti all'interno del team di pepe hanno eseguito trasferimenti dal loro wallet multisig rubando oltre 15 milioni di dollari che corrispondono attualmente a circa 16 trilioni di token pepe un membro del team ha rivelato che il token pepe è stato afflitto da conflitti interni fin dalla sua creazione con alcune persone del team descritte come bad actors quindi cattivi attori guidati da ego e avidità la settimana scorsa i trasferimenti illeciti sono stati effettuati verso gli exchange ok x binance kucoin e bybit prima di essere venduti e tutto ciò ha causato un calo di quasi il 20 per cento del valore del token diversi analisti block chain avevano già precedentemente notato cambiamenti sospetti nella gestione delle approvazioni delle transazioni da parte di un wallet multisig l'attuale gestore diciamo del progetto si è scusato su x e ha espresso l'intenzione di far crescere il progetto e di decentralizzarlo completamente nei mesi futuri anche per evitare altre mosse del genere si è menzionato il piano di acquisire alcuni domini web e nomi utente legati a pepe coin l'obiettivo è anche quello di bruciare il resto dei token multisig cioè cancellarli permanentemente dal mercato vi ricordo che pepe ha raggiunto un notevole successo nel 2023 con una capitalizzazione di mercato che addirittura ha toccato 1.8 miliardi di dollari a metà maggio ma nonostante questo grandissimo successo fin dall'inizio gli analisti avevano sollevato diverse preoccupazioni sulla distribuzione dei token e sulla presenza di un numero limitato di grandi investitori di queste balene che detenevano una quantità enorme di token pepe e queste situazioni ragazzi creano sempre altissimi rischi di volatilità e di concentrazione di potere nelle mani di pochi e l'investitore retail sono quelli sicuramente più a rischio la maggior parte inconsapevoli di queste mosse tra balene che ci dampano in faccia i loro token quindi ragazzi sempre massima attenzione soprattutto sui progetti che vedete che c'è un hype clamoroso percentuali di guadagno pazzesche in poche ore state molto attenti prima di tutto fate sempre le vostre ricerche e ora per chiudere una notizia che riguarda la stable coin di paypal cioè py usd perché secondo i dati forniti dalla società di analisi nansen la stable coin recentemente lanciata da paypal sta ottenendo una scarsa domanda da parte degli utenti del mondo cripto e la stable coin sembrerebbe non essere riuscita a guadagnare popolarità dopo il suo lancio attualmente solo un piccolo numero di persone utilizza o detiene py usd e nansen ha sottolineato che la mancanza di domanda sembra derivare dalla presenza di alternative più attraenti i detentori del cosiddetto smart money sembrano al momento evitare la stable coin anche perché l'emittente di questa stable cioè paxos detiene ancora la maggior parte dell'offerta in custodia gli exchange centralizzati che al momento hanno deciso di accettare py usd come ad esempio kraken gate io e crypto.com detengono solo una piccola percentuale dell'offerta con circa il 7 per cento della supply totale inoltre i dati mostrano che al momento solo 10 detentori di py usd al di fuori degli smart contract o degli exchange hanno un saldo superiore a 1000 dollari per alcuni utenti defa questa mancanza di interesse è dovuta dalla scarsa utilità della stable coin e dalla mancanza di opportunità per guadagnare interessi proprio nella finanza decentralizzata le proposte per introdurre incentivi tramite protocolli defa sono state ostacolate dalla difficoltà di coniare e inviare py usd due dati su questa stable per chi ancora non la conosce è un token con standard rc20 quindi su ethereum ed è scambiabile con altre cripto su paypal al momento sembra avere una disponibilità di oltre 40 milioni di token ma come vi ho appena detto non ha ancora attirato una grande partecipazione comunque nei prossimi mesi vedremo se questo disinteresse continuerà o se arriveranno novità che renderanno questa stable più interessante agli investitori bene ragazzi per oggi è tutto vi ricordo in descrizione il link per la promozione di coin call come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati e alla prossima sempre qua su hard rock crypto go go Grazie per la visione!